Irama a Sanremo 2019, tu hai già fatto Sanremo Giovani, hai fatto tanti live, hai aperto i concerti di Laura Pausini, quindi sarà una passeggiata per te o forse no? Ma non è mai una passeggiata in generale, sicuramente c'è sempre tanta emozione e tanta emotività che esce fuori, sarà sicuramente un momento incredibile quello sia. Porti una canzone che è La ragazza dal cuore di latta, già hai raccontato un po' di cosa parla, noi sappiamo ovviamente che si chiama Linda, ci puoi dire due cose su questa Linda, chi è? La ragazza dal cuore di latta è una canzone che purtroppo identificherà più persone, qualcosa di reale, qualcosa che non è comodo forse, però è vero, rappresenta qualcosa di sentito realmente. Linda è la protagonista della canzone ed è una ragazza che ha avuto una vita molto particolare, che puoi sentirete nella canzone. Una canzone che ha commosso, ha colpito anche Noemi, con la quale duetterai venerdì. Che cosa ti ha detto lei di questa canzone e come ti ha risposto quando gli ha detto dai, vieni a cantare con me? Ma Noemi è stata molto entusiasta, ha voluto rappresentare con me questa canzone, questo messaggio, la sua voce così sola, la sua voce così forte secondo me era la scelta giusta e sono veramente contento che si esibisca insieme a me sul palco di Sanremo. Senti, a proposito dei tuoi testi, sono sempre testi spesso autobiografici e comunque molto veri, no? Tu racconti delle cose vere che vedi, che senti, che incontri. Molto importanti sono per te più le parole della musica e forse non per questo, diciamo, i tuoi fari, i tuoi idoli, tra virgolette, sono dei cantautori come Guccini o De Andrè. Sicuramente penso che le parole siano importantissime nella musica, siano forse uno degli aspetti più importanti che ci sia, perché la musica comunque, oltre a essere qualcosa di bello, secondo me deve lasciarti anche un messaggio, deve lasciarti un'emozione, no? Come un po' quando vai al cinema e finisce un film, qualcosa te lo lascia, hai bisogno di sentire qualcosa, quando non senti niente forse non ti è piaciuto quel film. Ecco, io l'ho sempre vissuta in questo modo, la musica. Ci sono diversi tipi di musica, c'è diversi tipi di approcci, nessuno è giusto, nessuno è sbagliato, no? Però, esatto, io sono un po' cresciuto con i cantautori e i cantatori mi hanno insegnato molto questo. Senti, ci saranno ovviamente le tue piume a Sanremo? Ci saranno le piume, ci sarò io quindi ci saranno anche loro. Esibirai con dei cori, gospel, quindi ecco, dovrai un attimo calibrare un po' il tuo modo di cantare con loro e quindi voci che si intrecciano, voci corali. Eh sì, ci sarà un coro gospel, sarà bellissimo, sarà proprio emozionante anche per me e anche per loro, perché comunque ci ho parlato e erano contenti anche loro di rappresentare come Noemi questo messaggio, questa canzone. Appunto, è un inno alla vita e un coro gospel, secondo me, era perfetto per gridare questo messaggio. Senti, a proposito di messaggio, insomma, la canzone, il messaggio della canzone, come accennavi prima, insomma, è abbastanza importante, no? La violenza sulle donne e quindi anche messaggi di questo tipo possono salire sul palco di Sanremo. Beh, da qualche anno accade, no? Che temi più importanti della, diciamo, della canzone d'amore leggera prodano su questo palcoscenico? Sì, esistono diversi tipi di canzoni, diversi tipi di testo. Io ho voluto raccontare qualcosa, ho voluto dare un messaggio. Ho deciso di portare questa canzone, spero arrivi alle persone. Come è avere tanto successo a poco più di vent'anni? Come è avere tanto successo? Beh, dal punto di vista musicale è una cosa meravigliosa, perché più persone ascoltano la mia musica, più persone ho la possibilità di arrivare, più sono felice sicuramente. Quindi è una cosa meravigliosa da questo punto di vista. Come in tutto ci sono pro e contro. Sicuramente adesso sto cercando di guardare i lati positivi e sto cercando di viverli a pieno. Ciao Spettacolo Mania, ci vediamo presto. Un bacio da Rama.